Buon pomeriggio a tutti, oggi c'è il sole, non c'è molto caldo, si sta benissimo Eccola, c'è Ambra, l'ho vista da qualche parte nell'aere Iscriviti, subiscriviti Ciao, buongiorno, ciao Lucia, ciao Rullo, ciao a tutti Ciao a tutti, finalmente di nuovo la nostra Ambra Ce l'ho fatta Ce l'hai fatta, come stai? Tutto bene, tutto bene, spetta che accendo la cam Eccola, ma sei abbronzata Ma ancora no No? No, no, no No, perché qua ha fatto praticamente due mesi e mezzo di pioggia Non ha ancora fatto oggi, è il primo giorno di caldo Speriamo bene Ma si sta già annuvolando Oggi mi piacerebbe toccare un paio di argomenti Che in questi giorni ho guardato, ho trovato, diciamo, su TikTok Che è la cosa, diciamo, come si può dire Un po' le litigate che ci sono ultimamente tra educatori, addestratori, eccetera, eccetera Che ormai è diventata una guerra infinita Pettorine con l'aria strozzo, cioè veramente di tutte le più È una follia, la follia Allora ho estrapolato qualche cosina Però in primis io volevo parlare di una cosa molto importante Che purtroppo sto vedendo spesso e non mi piace Cioè, la classica coppia che si sposa Prendono il cane Dopodiché, a distanza di 4-5 anni, divorzia E il cane non lo vuole più nessuno Sì, rinuncia di proprietà come se non ci fosse un domani Se qualcuno va a vivere da solo e il proprietario non vuole i cani L'altro perché ha la nuova compagna piuttosto che altro, eccetera E il cane diventa un optional Quindi, da che il cane era il compagno di vita che viveva in casa Viveva in un contesto sociale importantissimo Troviamo adesso il cane magari abbandonato da solo in un recinto E tutto il giorno solo Oppure che fanno appunto le famose rinunce di proprietà Quindi va prima alla mamma, alla suocera o cosa Finché poi finisce in canile Ecco, in questo caso qua È tristissimo da morire Perché io non voglio mai mettere a paragone cani e bambini Però Possono essere innocenti, anche loro Una persona che lo fa con un cane Mi sorge il dubbio Che lo faccia anche Metti con una persona anziana sicuramente Sicuramente con una persona anziana lo fa Assolutamente sì Non dico con i figli Però sicuramente non possiamo pretendere che sono dei genitori ad hoc Questo è il mio pensiero Quindi anche lì coppie che vi state per sposare o cosa Non volete figli Evitate di prendervi il cane A meno che non sapete già Che il cane Starà Scusa Starà con voi Ha tutto setta Certo Quello è l'importante Perché È brutto È brutto vedere nei canini Cani lasciati Con diversi milioni di scuse assurde E ci rimette sempre solo il cane Quindi anche basta A ste minchiate E nessuno può spiegargli perché Come è successo Lui si ritrova solo e disperato In una situazione mentale atroce Il cane non capisce cosa succede Cioè lo capisce prima perché già La tensione in casa durante Le litigate o cosa il cane le sente Però Non può capire di colpo cosa succede Cioè di colpo si trova veramente Abbandonato Quindi lo soffre come un abbandono E non va bene Una cosa veramente Secondo me è orribile A volte c'è anche Chi se lo disputa Litigando Lo prendo io E non lo prendo in te Ma alla fine non lo prende poi nessuno Ecco Poi Un altro discorso Mi raccomando se avete domande Scrivetele Non vi fate più Certo, certo Un altro discorso molto importante Che questo è proprio quello che ho visto Diciamo su TikTok È che Ad un cane non c'è bisogno Né di urlare Né di strattonarlo Per insegnargli le cose Anzi Tutto altro Perché il cane comunque sia Ha Oltre all'olfatto molto sensibile Anche l'udito Quindi Se noi andiamo a urlare Al nostro cane E insegniamo al nostro cane Solo ed esclusivamente Urlando Non possiamo poi pretendere Che gli parliamo tranquillamente E lui capisce le cose Quindi bisognerà poi Dagli i famosi Comandi Come li chiamano Urlando In più è fastidioso È fastidioso Sia per le persone Sì Irritante proprio Ma sia per il cane stesso Infatti ci sono tantissimi cani Che appena sentono un urlo Si terrorizzano Il mio La mia seminucia Per esempio Appena sente un urlo Lei non è stata Abituata alle urla Quindi appena Mi sente magari Che sono un po' irritata Al telefono O cosa Ma sente solo Un tono di voce Più alto L'inizio Sì Però Questo è per farvi capire Appunto L'educazione La telecampezza Sì L'educare un cane Non bisogna Per forza urlare Anzi Più noi parliamo Tranquillamente Chiaramente E con un tono pacato Più il nostro cane Ci capisce Esatto Dolcemente Bravissimo Gli strattori Non servono a un tubo Se non Qua lo dico Prima che partano Tutti i video Contro Attenzione Che devo tagliare A cucire Se non In caso Di pericolo imminente Quindi Il cane Non dovrebbe succedere Però io sono distratta Al guinzaglio Il cane Si butta in mezzo alla strada E' ovvio che gli ti do Lo strattone Per riportarti Per salvare la vita Esatto Quindi un pericolo imminente Lo strattone Ci sta Perché Ti devo Aiutare Ti devo salvare Ma gli strattoni Anche no La conduzione Al guinzaglio Lo strattone Non serve A un beneamato Tubo Di niente Poi io Da quando Ti conosco Da quando Vi conosco Ho dato una regolata Al mio modo Di approcciare I miei Le mie bambine E la Emma E la Emma Che è quella Tremenda Tremendissima E' cambiata Guarda da così A così Già A dieci anni Dieci anni e mezzo Non vuol dire I cani imparano I cani imparano a tutte L'età Io come ho già detto Io ho fatto la scuola Da educatore Col mio Nonnino Che aveva A dieciotto anni E lui Nonostante tutto Su alcuni esercizi Fregava i cuccioli Perché aveva Saggezza Quindi Con la saggezza Arrivava prima Al risultato Rispetto al cucciolo Che invece è Oddio Oddio che bello Fammi anusare Fammi capire Quindi iperagitato Il vecchietto Questa cosa non ce l'ha Quindi è più riflessivo Sì Vero Ma imparano anche loro Assolutamente Imparano Mai troppo tardi Mai No Mai Ovvio che lavorare Su un cucciolo E' più facile Per un proprietario Perché Perché Il cucciolo Bene o male Se lo abitui O lo educhi Diciamo In fase Diciamo Dai tre mesi In percorso Ai tre mesi Avrai poi Un cane Normo comportamentale A sette mesi Che è piena Adolescenza Per il cane Proverà A metterti Alla prova Perché Ci proverà Quindi Tutto quello Che gli è stato Insegnato Il cane È un po' come Io ti metto Tu mi dici Di fare così Io faccio cos'ha Eh Proprio l'adolescenza La classica adolescenza Di un bambino Ma è l'età Anche giusta Lo fa in quell'età lì Lo fa a sette mesi Il cane Pensa Anziché i 15-16 anni Umani Quindi Quindi praticamente Ti mettono alla prova Intorno ai sette mesi Se tu proprietario Hai acquisito Le giuste competenze Quindi sai Come rapportarti Col tuo cane Tu non avrai Nessun tipo di problema A rimettere Ciao Isa Ciao Qualcuno a caso Non avrai Nessun problema A rimettere In atto Gli esercizi Che ti si sono Che ti si sono Stati dati E In modo Che gli fai capire Al cane No le regole Sono queste Se invece Come purtroppo Fanno tanti Ah no Ma il mio cucciolo È bravissimo E di su Ha sette mesi Tutti Dai sette mesi Poi dipende dalla taglia Sette e dodici mesi Tutti i cuccioli Hanno questa fase Adolescenziale Quindi tirano fuori Un aspetto caratteriale Diverso Da com'era prima Ci chiamate Un educatore Un addestratore Quello che è Si può ancora lavorare Come si può lavorare Come dicevo Fino a 18 anni Ovvio che a sette mesi Nella fase adolescenziale È un po' più difficile Perché? Perché è in adolescenza Ecco questo Vuole fare di testa sua Questo argomento Non lo affronta più Non lo affronta mai nessuno Io non l'ho mai sentita nominare Se non da te E da Isabella L'adolescenza del cane Non ne sento parlare Assolutamente sì C'è C'è tranquillamente Appunto Parte dai sette mesi Poi dipende Come dicevo Dalla Taglia Dalla razza Comunque dai sette Ai dodici mesi Ed è quel periodo Che il cane Tutto quello Che prima faceva Quindi prima Poteva essere il cane Il cucciolo più perfetto Del mondo Lui giustamente dice Ok adesso Mi sento grande Voglio provare Io a fare A prendere il mio ruolo Nel branco Sembra che Quindi può Imparare Sembra Come i ragazzi Come Uguale Quindi ti mettono Alla prova Tutto quello Che gli è stato insegnato Loro Non è che resettano Ma ti mettono alla prova Ok mi dici di fare così Io faccio cosa Come ti comporti tu proprietario Perché Perché il cane Vuole prendere il suo ruolo Nel branco Si prova Giustamente Come Ci prova un adolescente A dire Adesso sono grande 16 17 18 anni Non sei né grande Né bambino Però provano A sfidare A volte I genitori No Stessa cosa Vale per i cani Uguale Identica Se Il proprietario Ha acquisito Delle buone competenze Prima E Rimette In atto In In uso Diciamo Gli esercizi Che sono stati dati Prima Quindi li fa capire Ok Io ti voglio Ipotesi Seduto Tu non mi calcoli Perché vuoi Vedere come io mi comporto Io proprietario Non è che dico E vabbè Allora va a cagare Riprendere in mano L'esercizio del seduto E farti capire Che io voglio Il seduto Dalla base Dalla base Proprio Dalla base Poi Non tutti i cani Lo fanno La maggior parte Sì Perché è proprio Un periodo È l'ormone Anche per loro Hanno gli ormoni Eccetera Quindi ci sta Ma tutto sta a noi Sta al proprietario Assolutamente sì Joe Miller Guarda Con me sfondi Una porta Non aperta Spalancata Viva i metici E viva i vecchietti Sì sì Sta la vita Per me viva tutti Vabbè Perché Ovvio Capisco che è per tutti Chi ama i cani È per tutti Questo discorso Ma Sai Joe Sono state fatte Delle selezioni Anche maltrattando Tanti poveri cani Nei decenni E nei secoli precedenti Per cui Senza comprare Senza comprare Ma adottare Anche un cane di razza E anche un Riconoscere Il sacrificio Di chi Di chi è mancato In precedenza Per creare quella razza Cioè La vedo anche A livello così Quasi Filosofico Sociale Perché mi dispiace Per quelli che hanno sofferto Anche loro Tutti Tutti No ovvio che Tutti i cani Cioè Assolutamente Però io se devo dare La mia preferenza Ma chi mi segue Lo sa benissimo Che Ebbè Sono arrivata a dire Oh che bello Si è preso un dalmata Perché non usano più I dalmata Li hanno presi Negli anni precedenti Se te lo prendi Vuol dire che Proprio ti piace la razza Allora va bene Perché è fuori moda Il dalmata Ora Ma ti rendi conto È andato in boom Quando è uscito La carica dei 101 Sì Per tanti anni poi Ormai sappiamo Che i media Purtroppo Gestiscono anche le mode Terribile Assolutamente sì Joe Perché se scegli un cane Diciamo Per moda O perché Ti piace Senza valutare Le caratteristiche di razza Di quel cane Se può essere adattabile La tua vita Non va bene Ma infatti è importante Che tu parli Per dire Che tipo di cane Ci si può permettere A livello di Attività fisica Stile di vita Carattere È importantissimo Saperlo prima Ma infatti Una persona pigra Che non fa Attività sportiva Che gli piace Dormire O comunque stare Sdraiato nel letto Guardare la tele O giocare alla play Non mi può andare A prendere Né un cane da caccia Né un border Né Questi tipi di cani Da lavoro Cioè Mi prendi Un cane da compagnia Se proprio vuoi Ma Devi comunque Fare attività fisica Perché devi portarlo A spasso minimo Tre volte al giorno Questo che sia chiaro Non la traversina E lo ripeto All'infinito Ridillo 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 Che devono schiattare Devono schiattare No veramente No come Perché No ma perché Si Si vogliono scusare Si vogliono giustificare Dentro di loro Perché non è possibile Assolutamente si Vuoi darti Un Si Vuoi scusarti Per il fatto che Eh ma non ho tempo Di portarlo a spasso Gli lascio comunque La Il posto Dove fare cacca e pipì Ribadisco È Maltrattamento Perché il cane Deve uscire Di casa Almeno Tre volte al giorno E socializzare Perché la Sally Da quando ha le amicizie Nel parco E li vuol vedere Piange ogni tanto Quando ci passiamo davanti Vuole i suoi amici A poter essere più sicura Di se stessa Ora beve Fuori E mangia anche Qualche bocconcino Che danno Qualche biscottino Agli altri Allora lo mangia Perché se no Niente Non lo faceva Altrimenti non lo faceva Purtroppo c'è Cioè se questa convinzione Umana Quindi torniamo sempre sul discorso Dell'umanizzazione Perché tanto quello è Che il cane sta bene in casa Perché io lo sfamo Perché è mio figlio Perché è già tanto Che gli do questo Vero? Esatto Ma dovete guardare Anche i bisogni Del cane Il cane non ha bisogno solo Delle coccole Di stare in casa E di una cazzarola di traversina Sul pavimento Il cane deve uscire Sporcare fuori Annusare altri odori Segnare il territorio Conoscere altri cani Giocare con altre persone Andare in un lago Nuotare Correre Fare di tutto e di più E fa bene anche a voi Fa benissimo Il cane ti migliora Lo stile di vita Come dice sempre Il mio prof Marchesini Il cane è il nostro Personal trainer Il migliore Perché ci fa fare Delle attività Che senza il cane Non faremo mai E non siamo soli fuori Perché a volte Uno si sente solo Fuori No Uscite col cane Che è una grande soddisfazione Andate in vacanza Col vostro cane Ecco L'andare in vacanza Col cane È una delle cose Più belle Che ci possa essere È vero Può costare un po' di più Perché comunque Se prendete un treno Paga la metà del biglietto Nel mio caso Che ho due cani Metà metà Un biglietto in più Se vado in macchina Non ho questo problema In tenda In campeggio Anche lì Metà biglietto Oppure metà e metà Un biglietto in più Anche lì? Non lo sapevo Sì Ah Però chi se ne frega Voi vi passate Delle giornate Uno bellissime Perché Di sicuro Cercherete zone Dove ci sono altri cani Quindi conoscerete Molte persone Con 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 i cani Quindi Simile al vostro Modo di vivere Il vostro stile di vita Conoscerete altri cani Il vostro cane Sarà con voi Quindi Annusandovi Sente il vostro Essere rilassati Il vostro essere felici E contenti In vacanza E sarà ancora più contento E poi vi fate Delle vacanze Veramente A ridere Perché io Per esempio Passo Intere giornate In spiaggia A guardare I cani Che entrano in acqua Che c'è il cane pauroso C'è il cane che Si butta E se ne frega Allora poi Il cane che si butta Se ne frega Il cane pauroso Lo segue Perché dice Uh allora è una cosa bella Sì C'è l'interazione Vero 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 Isabella Sono d'accordo Che se stanno nel kennel Non pagano Ma sai che Non ami il kennel Vero Preferisco portarli Con guinzaglio E museruola In treno Se stanno nel kennel Non pagano Il biglietto Sì è vero E No io proprio Sono stronza Del tipo Mi fate pagare il biglietto Quindi il posto Di fianco a me È occupato Gli metto la copertina Dal mio cane Almeno c'è qualcuno Che ti piace Vicino a te No ma io lì Mi son trovata Per esempio Un controllore Che mi ha detto Quel posto lì Non è Non è suo Ci deve sedere il signore Io l'ho guardato E ho detto No perché io ho pagato Due biglietti a metà Quindi è un biglietto intero Questo posto Ci stanno i miei cani Ecco Punto Ah ma di su Mi faccia la multa Ma io assolutamente Qui ci stanno i miei cani Perché anche lì In agosto soprattutto Quando i treni Sono belli pieni Vendono fino all'ultimo biglietto Però se io ho due cani Che pagano la metà Quindi è un biglietto intero Perché ti devo far guadagnare di più Anche i bambini pagano mezzo biglietto E occupano un sedile Esatto E infatti io Me ne straccata foto Fai benissimo E il posto rimane sempre per i miei cani Anche io ho portato medusa Ma sul sedile ha pagato Sì 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 No no ma anche per terra il cane paga Anche per terra sì Sul treno sì Dipende dalla misura del cane Però io i miei Che sono due mezzini Metà Hanno pagato metà biglietto per uno Quindi un biglietto intero E quindi io non ti faccio stare per terra Tu stai sul sedile Con la copertina Che non sporco i sedili Ma tu stai al posto Intanto l'ho pagato quel posto E certo Infatti 30 anni fa Ho avuto sul treno un cane Che mi ha abbaiato Da Cesena a Milano Gianluca guarda Lì è lo stesso discorso di quando sei in aereo Che senti il bambino dietro di te Che piange da Milano in Giamaica Mamma Non sta al cane come non sta al bambino Sta ai genitori E in questo caso ai proprietari Che non hanno insegnato Probabilmente la giusta educazione Riguarda il traghetto Che anche io l'ho preso Il traghetto Beh abbiamo fatto un giorno Quindi un giorno e una notte E Vabbè Io stavo andando in Gran Canaria Quindi ci sono solo due Due navi diciamo che Vanno lì E c'è tutto il ponte Diciamo libero per i cani Al guinzagli ovviamente Ecco Allora all'andato ho trovato Questo ponte libero per i cani Con delle Dei kennel apposta Dove mettere loro Kennel in base alle misure Diciamo Sì Che potevi andare dai tuoi cani Solo in certi orari Però li potevi tranquillamente vedere da sopra Al ritorno invece Stesso discorso Ma Era diversa la compagnia Quindi io i cani Me li sono tenuti sul ponte Abbiamo dormito tutti e tre Sacco a pelo sul ponte Ma pensa Ed è stato proprio bello Sotto le stelle Con la brezza marina Sì 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 succedono delle cose Quando sei con i cani Meravigliose E sempre più a contatto con la natura Che in mezzo alla gente Poi per non parlare Del problema Che c'è in questo periodo Che sono quelle persone Viscide e schifose Che abbandonano i cani Nelle autostrade O nelle strade Anche lì Se siete dei viscidi Non siate schifosi Siete solo viscidi Allora portateli Davanti a un rifugio Se proprio non ce la fate proprio Vicino Come fanno anche con i rifugi Che conosco io O i canili Li lasciano lì Chiamano E dicono C'è un A tutte le ore No? Lo lasciate lì Suonate il citofono E scappate Se proprio volete Sì Esatto Evitate di abbandonarli In posti O in autostrada O O O O altro O legati in alberi Perché intanto Se ne stanno sentendo Di Di tutti i colori Io mio Non va bene Né per l'animale Ma soprattutto Spero che il karma giri Io me lo Me lo auguro Tutti i giorni Che il karma Faccia 360 gradi Se non in questa vita Magari la prossima La pagherete voi Ugualmente Sì Però Gianluca Giustamente La vita A volte Ti mette davanti A dei problemi Anche enormi E quindi Metti Uno sfratto Esecutivo Una cosa tremenda O Una famiglia Che perde Un membro Che sosteneva Tutti Gli altri Se proprio Perché solo queste Possono essere Le scusanti Meglio Di uno Di uno Che deve andare A farsi Una vacanza Quello Proprio Guarda Credimi Quello Io in parte Concordo Con Gianluca Quindi Prima di prendere Un cane E anche Mi allaccio Anche a Maurizio Prima di prendere Un animale Cane Gatto Furetto Uccello Qualsiasi Tipo Di animale Fatevi bene I conti In tasca Perché è inutile Che prendete L'animale E poi dite Eh ma non ce la faccio Eh ma mi costa Troppo Perché Anche no Io mi sono trovata Tante volte In difficoltà O Durante la pandemia Per esempio Senza lavoro E Qualsiasi Altra situazione Brutta Tutto ho pensato Tranne che Lasciare i miei cani Perché Se mangiavo io Mangiavano i miei cani O meglio Prima Cercavo da mangiare Per i miei cani E poi Cercavo da mangiare Per me E' vero I cani costano Perché comunque Bisogna valutare sempre I vaccini Obbligatori Quindi sono 3 Barra 4 Vaccini Obbligatori Che vanno fatti La sterilizzazione Che va fatta Quindi E il cibo Che ti costa Mensilmente Sempre che il cane Non ha altre patologie Perché se no Li Subentano Altri costi Quindi E' vero Che Mangio io Mangia anche il mio cane Ma fatevi sempre I conti in tasca Perché comunque Un animale Ha un costo E ha un costo Anche di tempo Che voi dovete Dedicargli No I veterinari Non hanno nessuna colpa Te lo dico Per chiaro Lì purtroppo C'è lo stato Dietro Perché i veterinari Consigliavano La maggior parte Dei veterinari Come farmaci I generici I generici umani Diciamolo Che andavano Che andavano benissimo Anche per gli animali Il nostro carissimo Stato italiano E' sarcastico Giusto per dirlo Cosa ha fatto? Ha proibito Ai veterinari Di fare Queste prescrizioni Quindi noi Dovremmo prendere Obbligatoriamente Il farmaco Veterinario Che costa Tre volte di più Ed è lo stesso Identico Principio attivo Del farmaco Generico umano Capito? Quindi Se dovete Prendervela Con qualcuno Poi è vero Ci sono dei veterinari Sicuro Che ci mangiano su Ma chi ci mangia Sempre di più E' sempre lo stato italiano Ma assolutamente Perché anche il veterinario Paga lo stato italiano E fa quello che gli dice Lo stato italiano La colpa va data Allo stato italiano Perché si potrebbe fare Anche un pronto soccorso Veterinario Certo Ma lo stato italiano Non vuole La mutua veterinaria Si potrebbe fare Si può fare Si può fare Ma oggi A meno Non credo che faccia salire Perché stiamo parlando Solo di E le case Fa un bacio Che è giusto Isabella Giusto 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 Cacchiamo sempre in alto In alto La colpa inizia Poi vabbè A cascata Anche Scende Però E' sempre in alto Maurizio Dipende tutto Da che tipo Di veterinario vai Certo Che se hai un veterinario Che sai benissimo Che ti ruba soldi Se continui a andarli Sei un po' pirla Io ho dei veterinari Che sono eccezionali Ma non dico i prezzi Di quello che mi fanno Perché veramente Sono risibili Questi prezzi Bisogna scegliere Scegliere Che sono sempre disponibili Scegliere E anche valutare bene le persone Eh Ci sono E le persone in gamba Certo Ho avuto più di 20 cani Maurizio Maurizio Probabilmente per te E' una guerra Verso i veterinari E lo vedo da come scrive Tutto in maiuscolo Non è così Assolutamente Un veterinario E' giusto Che si faccia anche pagare Le sue ore Perché Ha passato Tutta una vita A studiare Investendo Tantissimi soldi Cosa vuol dire Sono colpevoli Degli abbandoni Sì perché dice Se io Se mi prende troppo Io non ce la faccio Perché metti Che sono Col reddito di cittadinanza Se ti prende troppo Uno Non prendi un cane Due Cambi veterinario E lo so Lì bisognerebbe vedere Che quali brutte esperienze Ha passato Maurizio Maurizio Ti è successo qualcosa Con i veterinari Sti curo Ma Lucia Anche fosse Cioè Anche a me è capitato Di trovare un veterinario Anche a me È capitato a tutti Ma non mi sono fermata Al primo Ho girato Finché ho trovato Il veterinario Che mi è piaciuto Sì Onesto Che mi ha guardato Il cane Dalla punta della coda Alla punta dei baffi E non mi ha preso Uno sproposito Maurizio Tu sei convinto così Ti chiedo solo Per favore Di non urlare Scrivi piccolo Vediamo Scrivi piccolo Quanto ti leggiamo Hai ragione Tu sei convinto questo Ok Io ti ripeto Io fossi in te Ne cercherei altri Sì Sono una cifra alta Lo posso pagare piano piano Perché ha visto i miei cani Nascere e crescere Sì Ovvio Esami Contro esami Ripeto È vero Ci sono dei veterinari Che lo fanno Ci sono Come in tutti i campi C'è quello che ti fa fare Degli esami Che non ce ne hai bisogno Perché È normale Ma se non ti convince una Cambialo Senti un'altra campana E un'altra ancora Finché trovi quello che ti piace Maurizio Sì Facco Fare un confronto Hai ragione Maurizio Noi abbiamo bisogno Tutti degli animali E non ci dovrebbe essere Un discorso di lucro Però Scegliendo il veterinario giusto E se appunto Il governo Stanziasse invece Che in altro Eh Basterebbe molto meno Che in altro Stanziarlo per Gli animali da affezione Sì Sì hai ragione Maurizio Io la penso come te Lo sai cosa ti volevo chiedere In questi Mi sei venuta a mente Tante volte Ti volevo sempre chiedere Che cosa ne pensi Così Senza Avvertirti Dei cani da pet therapy Se soffrono Allora Cani da pet therapy Assolutamente Non soffrono Poi Anche lì Dipende Molto Dipende Sì Tendenzialmente Un cane da pet therapy È un cane Adulto Che lo vedi Che è molto portato Per aiutare I bambini Piuttosto che i disabili Perché ha proprio Una vocazione Ma lo vedi Tipo il mio cocker Il mio cocker Lui si siede Lui si siede E scodinzola Gli fa capire Che vuole interagire con lui Un'empatia fuori dal comune Insomma Superlativa Questo è il cane da pet therapy Questo è il cane da pet therapy A differenza del cane Come si usa adesso I cuccioli Puppi yoga Ah Quello è un altro discorso Perché la puppy yoga Secondo me Siamo sempre lì È sfruttamento animale Perché sono piccini Sono cuccioli Sono cuccioli Li lasciamo fare la vita Da cuccioli Fra di loro Con la loro mamma Senza che L'umano si metta a fare yoga Eccetera eccetera Ma che senso ha? Allora Ma ad esempio I cani da pet therapy Quelli che assistono Costantemente Persone Che non si possono muovere E che escono pochissimo Non accumulano loro stessi Delle energie Più che pet therapy Da quello che mi dici Sono più i cani Per i non vedenti Che dici tu O per chi non si può muovere proprio Sì Allora Loro calcola che sono Fin da piccolini E poi geneticamente Perché Lì è proprio una cosa genetica Che si tramanda Da madre in figlio Questo tipo di Educazione Barra addestramento Ok? Quindi sono cani Normo comportamentali Cani che Sanno gestire bene I picchi Diciamo di Pazzia Che possono avere I cani Loro sono Molto Equilibrati Ok? Quindi per loro Il fatto di Sfogarsi È proprio Nell'aiutare Ecco Lavorano Questo lavoro Il cane Deve comunque Innanzitutto capire Cosa vuole Il proprietario Quindi Lavorano già di testa Per capire E per andare A prendere L'oggetto Quindi è un lavoro Mentale Che fanno loro Non è il lavoro Fisico Come può avere Il cane Da frana Il cane Da slavina Eccetera Questo è un cane Più Che lavora A livello Mentale Ma si stancano Altrettanto Eh Facili Anche loro Eh sì Va bene Tesoro Grazie ancora Ti mando un bacione Grazie Grazie a tutti Quelli che hanno interagito E fatto domande Grazie davvero a tutti Un bacione grosso E al massimo Ci sentiamo Bene E buon weekend Cara Grazie Grazie Ciao Ciao